Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Rudy Zerbi, professore di amici e discografico, non ha passato delle settimane semplici, soprattutto a causa di alcuni avvenimenti avvenuti ad amici. L'uomo è stato vittime di minacce e odio su web tanto da scatenare anche la reazione di Maria De Filippi. Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più seguiti dai giovani, che puntualmente commentano e seguono gli alunni della scuola anche fuori dallo show. Quest'ultimi, quindi, diventando dei veri e propri idoli per il pubblico a casa e per le ragazze e i ragazzi che commentando ogni avvenimento sul web. In seguito all'eliminazione di Tommy, Rudy Zerbi è stato vittima di una unondata di odio sul web e ha ricevuto anche delle bruttissime minacce di morte. Zerbi ha così pubblicato una serie di chat che dimostrano le fortissime parole ricevute dal web. Ti odio, devi morire. Sono solo alcune delle orribile espressioni scritte sui social nei confronti di Zerbi. L'ira è incontrollabile ma ecco che arriva subito la solidarietà e l'appoggio della conduttrice del programma Maria De Filippi che in puntata ha detto Voglio che tu sia egoista. Sei sempre troppo educato. Voi cosa ne pensate?